ben tornati alla nottola di minerva il de consolazione filosofie il consul la consolazione della filosofia l'opera di severino boezio filosofo nato a roma nel 480 circa e morta pavia nel 526 filosofo e letterato latino la prima edizione del consolazione della filosofia è del 524 ma la prima stampa è da norimberga nel 1473 prima stampa tedesca e la stampa latina savigliano 1474 boezio scrive quest'opera in cinque libri in prosa e versi in carcere mentre attende di essere giustiziata a seguito a seguito di un'ingiusta accusa di tradimento la filosofia sotto le vesti allegoriche di una nobile donna gli fa visita in prigione e lo consona consola deconsolazione dimostrando che i rovesci della fortuna non possono influire sulla vera felicità la vera felicità consiste nel possesso di un bene eterno sottratto all'ordine della sorte coincidente con l'universale provvidenza che governa le cose ma tale da non pregiudicare la libertà dell'uomo non è un caso che sia stampato nel 1400 c'era tutto un fermento all'epoca un pullulare di riflessioni sul liber arbitrio che poi saranno nel 1500 il liber arbitrio il servo arbitrio eccetera l'opera di stampo neoplatonico trasmetterà alla filosofia scolastica medievale la questione degli universali ereditata da porfirio il come dire l'allievo di plotino e un nuovo metodo logico dialettico grazie